Pascal lo senti? Pascal lo senti anche tu? Pascal lo senti? Da dove arriva? Non arriva da qua? E' qua! E' lui! E' lui è Giacobbe! E' lui è lui il posto del capo, il posto del capo ha ragione, il campo ha sempre ragione. Nelle improbabili ipotesi che un dipendente avesse ragione entrano in vigore articoli 1 e 2 e poi tutto il resto. Il capo non dorme, il capo non mangia, si nutre. Buongiorno Gianni, come stai? Ciao Franco, come stai? Tutto bene? Questo è il nostro banco, posso metterti dentro? Io te l'ho portata questa che non volevo che ti mancasse, ma dopo ne parlo con Marino di l'Avici. Quella cosa lì non vogliamo vederla. La lasciamo qua. Era solo una pornografica per farti vedere tutte queste schifezze che comunque sai, c'è tanta tecnica per allora. Vedi questo banchetto qua pieno di cosa mia. Di chicche. Non riesco a stargli dietro a questi carburatori. Ce li presenti visto che arrivano carburatori a tutta Italia, mi dicevi di tutti i tipi e qua abbiamo degli esempi pazzeschi. Vedi questo è un esempio pazzesco. Questo che vedete qua ne manca uno perché è in fase di lavorazione. Sono tre montati su una Maserati di Formula 1 del 46. Quindi vedi come era la tecnica, roba da museo, come era la tecnica allora, vedete, fa ridere a vederla adesso. E spiegaci perché fa ridere. Fa ridere nella sua semplicità, sai non c'è niente di elettronica, tutto meccanico e per di più, fatto neanche troppo bene diciamo però sai i tempi erano questi. Cos'è che non è fatto bene? No, ha fatto bene nel senso di dire non sia più la tecnica del voluto. Tu guarda solo questi a fianco che sono carburatori di una Fulvia 1003 Monte Carlo risalente a risalente non so quanti anni dopo questa e vedi il passaggio generazionale c'è stato anche nei carburatori. Sono 30 anni. Esatto, esatto. Mentre l'ultimo che vedi là è il motore di una barca, di un motore americano di una barca, di un 8 cilindri e si revisionano. Prendo questi che sono già pronti per farti vedere cosa li abbiamo fatto, vedi questi qui sono perfettamente revisionati. Non so se vedi farfalle nuove che vedi, sono questi componenti che noi abbiamo cambiato, farfalle nuove, alberini maggiorati con tanto di leve e tutto la rigenerazione che si fa a queste macchine. Tutte le membrane, guarnizioni, ranelline e chi più ne ha più ne metta. Vedi questi saranno poi da montare direttamente sulla macchina, bilanciare e sicuramente andranno bene. Senti e quelli lì la macchina la utilizza? La macchina questa è una macchina folle nel senso che ha avuto richieste cifre impressionanti da vari compratori disposti a spendere tanti soldi. E come vedi ne manca uno perché sono tre per sei cilindri e scusate ogni tanto arriva il rumore ma purtroppo non è una farmacia. E niente questi sono appunto, senti la puzza che c'è di benzina marcia. Sentite anche voi? La sentite? Comunque piacevole. E quindi vedi sono dei mondi diversi dalla barca a macchine di tanti anni fa, una macchina più recente. Senti quanto tempo ci vuole per... Per fare questi che tu vedi cambiando tutti questi particolari soprattutto a livello di alberini. Si toglie le farfalle, si ritificano i condotti, si mettono gli alberini maggiorati. Un lavoro che richiede in circa una giornata di tempo se fatto bene. Una giornata di tempo? Una giornata di tempo. Fatto da lui, da dietro Yuri mi sta suggerendo no perché è il capo che fa. Ah no lui sta dicendo spezza lo faccio io meno. No scherzo. È difficile, è molto difficile che ci riesca. Una giornata di lavoro? Questo sai il mio lavoro, tanti anni che lo faccio. È un po' una passione che mi rimasta e mi rimarrà probabilmente fino alla fine. Immagino. Però diciamo che ecco questo è un lavoro che tu vedi. Ovviamente in macchine così vecchie, così antiche, questi li troviamo ancora di ricambi. Qua devi fare tutto da zero. Gli devi proprio farlo tutto. Dal tornio, facendo la... con il tornio si fanno tutti i vari alberini, tutto quello che possa servire. Gli spilli si trovano ancora, le guarnizioni vengono costruite e tutto. Rettificati i piani e si può andare in condizioni veramente, veramente belle. Va bene. Ecco questo è un mondo particolare. Mi piaceva fartelo vedere intanto che aspettavi la... No, la gente adora. Tutta la cosa però penso che la gente... Anche perché questa è l'unica realtà che esiste dove c'è veramente la parte elettronica agli altissimi livelli e c'è la parte meccanica vera. Se tu ti giri... Come vedi stiamo parlando di macchine del 46 e di macchine come queste. Guarda tutte le varie sonde che sono state applicate oggi sui diesel, tra virgolette... È un gran casino. È un gran casino. 700 chilometri si spegne. È angosciante. È arrivato... C'è la spia. C'è la spia. La facciamo vedere. È calcolato che è arrivato al zero, la macchina non parte più. Basta. Non è che dice... Non viene fermata, viene bloccata, né per strada non la accendi più. Per cui il concetto noi classici italiani diciamo... Se c'è la menza vado, la di blu mi dice che non c'è ma poi la metto. No, non funziona così. Questa c'è proprio un conteggio che ti ferma la macchina. E dopo di che? La procedura? Devi riempire tutto il via di blu, ma c'è tutta una procedura con strumenti ufficiali da fare, da tenere, che comunque vada non sono cinque minuti per rimetterla in funzione. Se uno non rimane senza di blu, probabilmente non ce ne sono. I problemi che è andato questi, ad esempio, sono degli iniettori della di blu, perché la di blu è nient'altro che un iniettore che va a sparare questa sostanza nel FAP per essere pulito. E si guastano, si stoppano, ne fanno un po' di tutti i colori. Hanno avuto un po' di problemi. Anche è vero che però questa di blu qui consente di avere emissioni molto basse, per cui... Consentirebbe, l'hai detto forse la parola giusta. Non si riesce a capire quanto effettivamente sia quello che si dice e quello che fa in mezzo. Vedi che la di blu in camion, mi sembra addirittura l'Australis con la gente lì, la Fiat è passata a montare impianti metano per poter togliere tutti quei dispositivi qui. C'è un work in progress tutto quel mercato qua, della di blu e tutto quello che gira in giro. Però questa c'è, questa deve esserci, per cui deve esserci. Adesso ti faccio vedere la spia che accende quando... Sì, tu hai sentito parlare di dispositivi che... Comincio a vedere dei post dispositivi che... Ritardano... Che passano il diesel a GPL? Allora sì, ne ho avuto a che fare. Il gas GPL montato su diesel è una bomba. È una bomba? È una bomba. Non è una bomba nel senso pericoloso, va da Dio. E perché allora? L'hanno fatta rullare dei ragazzi montati su una 156. Ti ricordo impressionante, aveva i giri di un benzina e il motore girava da Dio. Prendeva giri molto, molto cattiva. La macchina ha guadagnato una cifra. Il problema dov'è? Che non è omologabile. Conseguenza... Ma qualcuno dice sì, qualcuno dice di no. Ma gli interessi probabilmente del mercato vanno sopra quelli della tecnica. Nel senso di dire alla gente, ai nostri governanti, chi per loro interessa a far cambiare le macchine. Conseguenza non è omologabile. Che io sappia non c'è... Qualcuno dice che c'è qualche comune che lo voglia fare, che si è interessato a farlo, per poter portare le Euro 3, Euro 2 a emissioni con un Euro 5. Però io che ne sappia io, e te lo dico in maniera quasi certa, che non è omologabile. Non lo fanno omologare perché siamo delle bestie. Quindi può funzionare bene, può andare tutto bene. Però il momento che non l'ho scritto sul libretto, tu mi insegni che non serve a niente. Sì, è vero, è vero. Questa vedi? Vi faccio vedere la spia. Intanto che perdete ancora 5 minuti. Vedi questo? Vai Faschi, muta tu. Vai come, fai vedere. Attento che con la musica e con i lenti si innamora. È impossibile avviare il motore. Quindi arrivi, se non lo sistemi il difetto, arrivi 800 chilometri e la macchina non parte. Per cui è già in countdown, deve già... Adesso ho finito di fare un aggiornamento software per un errore che dà questa macchina qua. Usciamo per strada a fare una procedura di apprendimento di tutti i componenti e dopo di che dovrebbe essere spenta. Va bene. Perfetto, certo che siamo partiti con il carburatore della Formula 1 Maserati del 46. E abbiamo visto queste schifezze. Vedere la Centra è veramente una tristezza. Va bene, Gianni, io ti ringrazio tanto che ci apri sempre il cuore. Niente, io spero che nel mio angolino tu ti sia divertito. Io lo faccio proprio... A parte lui, io mi ringrazio tanto. A parte il cumo, dici che... Niente. Ah, ma è come un parte integrante dall'officina. Uno di noi, diciamo... Va bene, dai, vai a provare lì. Per cui provi. Ma diciamo che magari... Magari non lo smonterei... Non lo metterei a smontarmi i carburatori della Formula 1. Però lui è bello. Sì, lo vuoi capire l'elettronico. Vabbè, io vado a ballare con Paschale invece che c'è. Va bene, va bene. Fai il buon gusto che sta suonando. Ciao Gianni. Ti stai sbagliando, non vedi? Chi è? Tu sei abbastanza preparato. Eh, qua siamo in imbarazzo tutti e due, sai. È dura. Però io, così. È quello che è morto. Ivan Graziani, perché devo dirtelo tutte io. Già, balliamo Paschale. Dai, balla Paschale. Vieni, ti bacio. Paschale, vieni, ti bacio. È bello.